Eccoci arrivati al giorno di Natale, il giorno che ci riempie di gioia e di speranza. Come ci siamo preparati a questo momento, a questo incontro, per ricevere Gesù con cuore puro e pieno d'amore. Avviciniamoci prima al presepe della nostra parrocchia e subito dopo al tabernacolo per contemplare la bellezza dell'amore. Contempliamo Gesù con l'intelligenza del cuore e non con quella della mente per rendere docile il nostro spirito alle indicazioni dello Spirito Santo, per essere pronti ad accogliere con serenità la volontà di Dio, proprio come Maria e Giuseppe, per non essere come Zaccaria, per non chiuderci nei nostri silenzi, ma essere megafoni dell'amore di Dio. L'esempio dei pastori e dei saggi, così come custoditi in questa pagina di Vangelo, ci mostra che è nella semplicità del cuore che troviamo Dio. Scrivendo sulla sapienza del cuore, Antoine de Saint-Euxbury ha scritto non si vede bene che con il cuore, l'essenziale e invisibile agli occhi. Il mistero del Natale è un mistero del cuore di Dio, un cuore che ama così tanto l'uomo da fare l'impensabile per salvarlo, diventare uomo. È divenuto piccolo affinché ci avvicinassimo a lui per amarlo e conoscerlo. È nato in una povera stalla di Betlemme, per entrare nella povera stalla dei nostri cuori e riempirli del suo amore. Le apparenze nascondevano la presenza di Dio a tutti, tranne a quelli che, come i pastori e i magi, lo cercavano con tutto il cuore. Questo Natale ci unisca ai pastori e ai saggi, nel sempre nuovo viaggio del cuore verso l'incontro col bambino Gesù. La parola che oggi ci regala il Vangelo è Apriamo.